online il sito www.cerbaldardo.it che tutti i cittadini, le imprese e gli enti locali potranno visitare. Nel sito ci sono tutte le informazioni che servono per capire che cos'è una comunità energetica. Qui appunto stiamo parlando della prima comunità energetica d'Italia per dimensioni e struttura giuridica che darà l'opportunità non soltanto a Montevarchi e ai propri concittadini, ma a tutti i valdardo di Aretino e anche oltre di poter in maniera fattiva partecipare senza costi, aderendo, mettendo a disposizione per chi ha superfici per installare il fotovoltaico ma comunque poter anche essere semplici consumatori. Quindi un'opportunità importante che può garantire già dal 2023 una revisione del costo della bolletta, oltre a benefici naturalmente che andiamo a generare da un punto di vista ambientale e sociale. Il sito dà l'opportunità appunto di avere tutti i chiarimenti per quanto riguarda la procedura di adesione e le opportunità appunto che la comunità energetica comporta. Ci sarà un numero verde, c'è appunto una mail a cui scrivere e quindi sarà già possibile dopo le informazioni partecipare alla preadesione e cominciare ad interlocuire con il gestore che gratuitamente darà tutte le informazioni necessarie facendo anche uno studio ad persona per ogni singolo cittadino in modo tale che possa fare liberamente e ripeto senza nessun investimento economico la propria scelta di aderire a questa opportunità che è appunto una comunità che ha un fine sociale ma anche ambientale.